Passa avanti perché stiamo lavorando, passano le settimane, la squadra lavora, migliora, ma non è perché per il risultato, a me il risultato non importa, la squadra migliora, dalle prime amichevoli è normale, si devono conoscere i ragazzi, stiamo lavorando, i ragazzi stanno lavorando bene e quando si lavora bene le squadre migliorano, certo, più andremo avanti e più questa squadra migliora, perché ha dei grossi margini di migliorare, ma più che altro deve credere, deve credere in quello che noi facciamo, nel nostro lavoro, perché se noi crediamo possiamo ottenere tante cose, perché il calcio è fatto in due parentesi, o con i soldi o con le idee, è difficilmente, difficilmente, noi una settimana fa, tre giorni fa, quattro giorni, mi sembra c'è stata una partita importante in Italia, con una squadra che ha tutto, che ha soldi e tutto quanto, con una squadra che ha le idee, ha vinto la squadra che ha le idee, quindi nel calcio sento parlare molti esperti qui a Terni che criticano, ci criticano, ancora non è partito il campionato, aspettateci, fateci lavorare, poi farete in tempo a fare i sapientoni, ma non fate i sapientoni, perché io quando sbaglio pago e vado a casa e sono esonerato, questi sapientoni quando sbagliano con la penna stanno sempre in giro, io mi sto riportando tutti quanti gli articoli che fanno questi scienziati su tutte le cattiverie che parlano, perché non amano la Ternana, vogliono far vedere che capiscono, se capiscono scendessero in campo e ci facessero capire loro come si costruisce una squadra, noi oggi abbiamo fatto giocare un 2001, abbiamo avuto il coraggio di far giocare un 2001 e di tenerlo in una rosa importante, senza nessun problema, è bravo il ragazzo e crescerà con noi, e giocherà con noi, giocherà con la Ternana, ecco si costruiscono le cose. A che tipo di accusa si riferisce? Beh le accuse che sui vostri siti, su tanti articoli, che siamo una squadra l'ultima in tutte le graduatorie, ci attaccate che non abbiamo giocatori, ci attaccate che la squadra non è all'artezza, che la squadra non è di categoria, per me fate solo del male, fate del male perché non aiutate questi ragazzi, io non ho problemi perché, vi ripeto, io per la Ternana mi butto dentro il fuoco, quindi non ho problemi di nessuna ragione, solo ci sono ragazzi giovani che devono partire, sono partiti tanti giocatori da zero e poi sono arrivati in nazionale, chissà che anche la Ternana diventi una di quelle squadre sorpresa, perché giudicare subito? Poi vedo cattiveria, io le critiche le accetto, accetto le critiche costruttive, ma quando vedo che c'è della cattiveria non mi piace, non si devono spacciare per tifosi da Ternana, loro sono tifosi di loro stessi, perché vogliono fare i sapientoni, vogliono fare i bravi, ma io vorrei vedere quante volte hanno sbagliato questi signori, ma loro stanno sempre lì a scrivere, questo mi dà fastidio, mi dà fastidio la gente, giudicateci per quello che facciamo, ma per quello che sentite dire, o perché magari non abbiamo preso l'amico dell'amico, il compare del compare, perché poi il calcio funziona così, noi ci stiamo mettendo l'anima e non ci faremo piegare da nessuna, da nessun componente che può scrivere su di noi, sento tante idiozie, giocatori che vanno via perché non accettano la società, non hanno piedi, si devono vergognare. Ma forse è un po' il sito, la stampa, quello che ha i social, i social? No, 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 ragazzi, io so leggere, so leggere, ci metto un po' tanto per capire perché ho fatto la terza media, però so leggere, nelle sfumature so leggere, non è che ci dicono che siamo dei somari, non è che ci dicono questo, però non mi piace, noi dobbiamo essere tutti compatti, quando dico noi dico squadra, società, tifosi, forse oggi i tifosi, io ringrazio tutti quei tifosi che incontro per terni e mi incoraggiano, li ringrazio uno per uno e ognuno che mi ringrazia a me mi emoziona, mi emoziona perché ho detto meno male, c'è gente che ci vuole bene, perché io voglio la critica, io voglio che ci fate capire se noi non siamo all'altezza, però mi dà fastidio quando c'è cattiveria e noto questo, io quando sbaglio una partita sono rimproverato, se ne sbaglio più di una vado a casa, perdo i soldi, il mio staff va a casa, noi lavoriamo con tanto impegno e lavoriamo di più di quello che voi vedete, non lavoriamo solamente sul campo, cerchiamo di creare dentro un ambiente, dentro lo spogliatoio, di fare uno spogliatoio forte, non come tanti spogliatoi finti, come tanti giocatori finti che baciano la maglia e poi stanno pensando al contratto e già c'erano il contratto con le altre parti e poi fanno finta a vedere i tifosi, ci vuole la corretta che sei una persona molto leale, quando sono venuto qui ho parlato con molte persone, ho parlato di lealtà, di essere uomini, qualche d'uno non è stato uomo e mi dispiace che qualche d'uno di voi anche ha elogiato la sua decisione. Senta mister, vogliamo fare un'analisi oggettiva, spersonaliziamo, è chiaro che a questo punto nessuna squadra, ovviamente neanche la Ternana può essere al top, anche perché il mercato non è concluso, gli evangelisti dice arriveranno i giocatori che servono, i nomi non ci interessano però l'importante è mirare il giusto e prendere il giusto perché è decisivo quest'ultima fase di ricerca, però lei non crede che il giusto entusiasmo, il giusto di Bandecchi quando è venuto a Ternana e presentarsi, ha parlato di progetti importanti, non abbia conciso una campagna acquistica, ma il tifoso, forse che noi ci aspettavano un corposo, anche se disse subito che non era importante il budget, ma le idee e i processi, di un po' in sintonia guardate, lui a me mi fa sempre una testa così, quando lui ha aperto la sua università ci sono andati i manager più forti del mondo a parlare, avevano tutte duemila idee, lui ha preso tutte le gente normalissime, oggi è la prima università in Italia, telematica, lui nel caccio crede veramente quello che ha detto, lui lo crede veramente, a me mi spavano ogni giorno, voi non potete capire che pressione che mi mette, ma perché vedo nell'uomo che lui non è abituato a perdere, lui crede molto nelle persone, lui crede molto nel lavoro, lui crede nel lavoro, è una persona che lavora 20 ore nella sua azienda. Io vi posso dire una cosa, noi dobbiamo creare, creare le basi, non abbiamo le basi, ma quanti giocatori sono rimasti della Ternana dell'altro anno, che erano tutti fenomeni, che erano tutti i più forti del mondo, che saranno tutti in serie A, quanti ne sono rimasti? ditemelo voi. Chi sono? Chi sono quelle riconfermate? Chi sono? Chi sono? I stranieri? Non lascia perdere i stranieri, lascia perdere le desma, lascia perdere i diagitei, lascia perdere i giocatori che non sono di un progetto italiano, non mi fate discorsi che sapete che la proprietà vuole un altro tipo di discorso, noi dobbiamo creare, noi dobbiamo creare giocatori nostri, noi mercenari, noi dobbiamo creare giocatori nostri, i mercenari non vanno bene a nessuna parte, non hanno mai vinto niente, non hanno mai vinto niente i mercenari e non mi sembra che Terni negli ultimi dieci anni sia arrivato a primo o a seconda, a primo o a seconda, a primo o a seconda, mi dite voi i piazzamenti vostri, ditemeli, negli ultimi tre anni vorrei sapere. La preoccupazione è quella. non può fare questo campione serie B. No, no, voi già siete partiti già che ci avete ucciso. No, no, io non me la metto così, ma lo sta dicendo adesso perché lo vede riconfermato. Ma chi riconfermia? Io arso la voce perché sto a casa mia e mi sento a casa mia. Mi sento a casa mia e arso la voce. Ma lei può fare quello che vuole. Io arso la voce perché qui mi sento a casa mia. E io infatti arso la voce. Non vi piace il tono? Non vi piace? A me il tono, sentite, a me il tono, il mio tono è questo. Io la capisco perché pure io parlo forte e sempre. Ebbene, ma io mica la sto offendendo. Parli, strilli più forte di me. Per me non ci sono problemi. No, per me mi piace chi è che urla. Tranquillo, è il mio modo di partecipare perché sono una persona sanguina. una domanda, anzi due. Una se vuole prendere una posizione definita sulla vicenda Meccariello. No, non voglio parlare di Meccariello. Io Meccariello ho parlato da allenatore e da uomo. Da allenatore e da uomo. E non voglio andare oltre. Meccariello non mi interessa. È un giocatore che non fa parte più della Ternana e io non parlo. E non me ne frega niente di quello che ha fatto Meccariello. Però non fate passare per le persone quello che non sono. Un'altra domanda, mister. A parte gli stranieri, no? Qualche giocatore della vecchia guardia italiano che avrebbe potuto stare comodo. Ecco. Pettinari. Come mai non è stato... Ci sono i giocatori più forti di Pettinari. Ma in organico oppure... Che abbiamo pre... Per me sono i giocatori più forti di Pettinari. Io esaminavo tutta la rossa della Ternana. Non mi piacevano i giocatori. Non mi piacevano i giocatori. Io ho scelto i migliori che ci sono nelle nostre possibilità. E ho preso giocatori di prospettiva e ho preso giocatori che mi daranno l'anima dentro al campo. Io ho preso quei giocatori. Sono problemi della società. Io vado avanti per quelli... Io alleno chi viene. Noi abbiamo parlato già. La società sa come intervenire. State tranquilli che noi ci vediamo tutti i giorni e parliamo. E la squadra non deve essere migliorata con i nomi. Deve essere migliorata con le idee e con il lavoro. E con il sacrificio. Questo deve essere la mia squadra. A me non me ne frega niente del nome e del cognome. Io non sono... Scusate il termine, Marche Giuliano. Se io ero Marche Giuliano... E' un nome, ragazzi. Se qui c'era Marche Giuliano, eravano tutti più belli, mi facevano domande più altologate, perché ho giocato con la Juve, ho giocato il nazionale. Sono Sandro Poghesi, scusate. Scusate se è poco. Le posso dire una cosa? Le faccio un piccolo esempio. Allora, dunque, se io e lei vogliamo andare a affrontare la giunga, magari saremo anche due ottimi esploratori, ci mettiamo tutta, andiamo da soli dopo 200 metri che a scavano la prima trappola. Se qualcun esperto di questa giunga ci aiuta, lo vediamo e la prossima volta la speriamo insieme. Per me ci sono i giocatori esperti. Per me ci sono i giocatori esperti. Per me ci sono i giocatori esperti. Per esempio, per categoria, per ruolo. Valiante e Signorini per me sono due grandissimi giocatori. Signorini la Serie B l'ha fatta tanti anni, poi ha avuto un incidente, ha avuto un percorso. Valiante mi sembra che per me è uno dei migliori giocatori. Defendi e Paolucci per me sono dei signori giocatori, sia come uomini, che hanno sposato subito questo progetto, subito. Si sono messi a disposizione di giocatori che per il momento non sono dei nomi e forse non saranno all'altezza della Serie B che voi pensavate tutti. Perché il Presidente è sceso con l'elicottero e voi avete pensato che noi qui portavamo Ibrahimo ci portavamo questo qui. Il Presidente ha parlato molto chiaro, ma non c'entra niente. Non c'entra niente. L'elicottero è un mezzo per arrivare prima. C'è chi va in macchina e chi va in elicottero. Questo qui. Probabilmente io credo, questa è la mia ipotesi, la metto sul tavolo della distruzione con la massima umiltà, immagino che si sia creato forse un equivoco macroscopico, cioè un cortocircuito della comunicazione, nel senso che io credo che la maggior parte dei miei colleghi, credo, critichi non la squadra e il gruppo di lavoro, assolutamente, semmai le critiche sono rivolte alla proprietà per una campagna acquisti che viene ritenuta a oggi inadeguata, ma non alla squadra. Cioè, nessuno intende ridicare l'alliantore alla squadra. Io non sono in grado di proteggere la società e di difendere la società perché sono delle persone, sia il Presidente Ranucci che il Padro Bandecchi, sono delle persone che hanno dimostrato di essere degli uomini. Quindi io mi fido degli uomini, io mi fido di questi dieci giorni, io mi fido delle persone che mi hanno dato una grandissima fiducia e una grandissima chance. Io me la gioco fino alla morte. Io vi dico che noi non vi deluderemo. e quello che ha detto la società, quello che ha detto la proprietà su quello che vuole fare la Ternana, io ci credo ciecamente. E quando scendo in campo, io scendo in campo come Ternana e non me ne frega niente chi alleno e gli avversari e le piazze e i nomi e i cognomi e i soprannomi. A me non mi interessa niente. Io ho il mio lavoro, vado avanti per il mio lavoro, credo ciecamente nel lavoro di questa squadra e sono convinto dentro di me che questa squadra ci toglierà delle grandi soddisfazioni. A me dà fastidio quando la gente fanno i fenomeni e non se lo possono permettere. Non se lo possono permettere di fare i fenomeni perché ne ho visti tanti di parlare. Sono dieci anni che vedo parlare, poi quelle persone li vedo sempre lì. Devo andare a casa. Quando uno si permette di dire delle cose, deve andare a casa. Ho sbagliato, vado dal giornale, devo stare due anni in esilio perché ho sbagliato, valutazione. Come quando un allenatore sbaglia la formazione che viene esonerato, viene mandato a casa. Allora è troppo facile fare i belli a vedere in tribuna e criticare prima di una partita, umiliare degli articoli su dei ragazzi. Non va bene. Non va bene. Non va bene. Solo organico, sì. Non va bene. Battute e battutine. Non va bene. Perché mi sono segnato tutti quanti i signorini che hanno fatto a firma questi articoli e quando sarà il giorno del giudizio ci divertiremo. O mi divertirò io o io starò a casa. Ma io pago. Vado a casa. Ma il signorino deve andare a casa perché lo chiamerò io davanti a voi. Il signorino preoccupa ogni stanza nella bocca? Quello sono preoccupato. Purtroppo sì. Perché il dottore mi ha detto che il 99% è una frattura. Ma è una frattura? Sì. Un mese e mezzo, due mesi. Se è composto o scomposto. Speriamo di no perché si può mettere una placca. Mi ha detto che speriamo. Adesso ci sono delle maschere che si può anche giocare. E anche perché poi è un ruolo che stiamo aspettando sempre. Quindi non hai detto che deve andare sotto i ferri? No, si deve operare per forza. Solamente che si può giocare probabilmente anche con una... Con un paio di settimane e poi dopo una maschera. Io penso sabato che deve giocare. Sì. Già sabato? Se non arriva nessuno gioca il 2001. Lo dico subito. Non me ne frega niente. Gioca il ragazzino perché almeno è uno vero. Ecco, Canalicchio appunto come l'ha visto oggi? Giocatore che farà una grande carriera. Senti minuti ma direi di personalità. Giocatore che farà... Ma lo sapete che lui viene al campo senza che io lo convoco. Io tra l'altro giorno ho fatto un fenomeno. Ma chi ti ha convocato? Viste, ma è che non devo venire? No, ti do la medaglia d'oro. Io non ti ho convocato. Adesso ti alleni sempre con me. Vieni al campo. Ma questi sono i ragazzi che noi dobbiamo premiare. Noi finti mercenari. I finti mercenari che fanno i predi davanti a tutti, fanno i belli. Quando io ho detto vai in sala stampa e fai... E di quello che mi hai detto a me da uomo. Sì, mi stai civato. L'ho visto come ci è andato. Visto, è possibile che questa situazione dei signorini possa accelerare comunque... No, ragazzi, martedì deve venire per forza. Noi ne dobbiamo prendere due perché ragazzi non possiamo fare un campione di Serie B con 2001. Io il 2001 ve lo dico qui. Sarà un giocatore che lo farò debuttare perché è forte, non me ne frega niente l'idea che c'ha. Perché è proprio forte, c'ha proprio personalità, mi rimbarza che per me c'ha 20 anni, non c'era 16. Quindi per me è un giocatore pronto, pronto con la testa, ma c'ha un'attenzione mostruosa. Ma poi dove stanno questi fenomeni? Ma dove stanno questi fenomeni? Fatemi lo che B, io non li vedo tutti questi fenomeni. Serie A, Serie B, non li vedo. Io c'erano tanti giocatori in prima categoria, molto più forti di tanti di Serie B che ne ho visti. E che qui osannavate. Osannavate. Va bene, equivoco mister, comunque chiamiamo equivoco, no? Che non riguarda magari lei. No, no, io lavoro con un materiale che ritengo all'altezza. E lei apprezzo? Sì, apprezzo, apprezzo, perché sono dei ragazzi, sono degli uomini prima di tutto. Perché io ho scelto degli uomini che mi danno la vita, mi danno la vita, voglio la vita in mezzo al campo. Io li insulto, li massacro, non c'è sta ancora uno che mi... Ma sai quanti mi dovevano mandare a quel paese? Quelli sono uomini. Perché io l'ho detto? C'è un brutto carattere. Io non so, buona perde. Me ne frega niente, regà. Eh ma quelli sono quelli. Me ne frega niente. Io non guardo né budget. Ragazzi, voi portate la maglietta. Io impazzivo se giocavo dentro a questo stadio. Se io potevo giocare a questo stadio con Samaglietta, impazzivo. Faceva i capriolo. Mentre correvo faceva i capriolo. Sì, ministro, lo so, l'eduivo è questo. Diciamo, forse è una rata interpretazione che un po' tutti i tifosi noi abbiamo fatto. Abbiamo detto, cambia, così dire, gestione societaria. Arriva un igusano, vediamo grande pubblicità sul Corriere dello Sport, investimenti a livello, che ne so, importante, nel proprio settore, comunicazione. pubblicità sul Corriere in prima serata, si è detto, forse passiamo da una gestione coagulatissima, perfetta, per carità, dell'Ungarino, dal punto di vista amministrativo, contabile, occhio a bilanci, a un igusano altrettanto perfetto da questo punto di vista, ma che magari investirà di più nella campagna acquisti, per magari far sognare di più tifosi con dei nomi, nomi intesi come giocatori di categorie. No, dei nomi, dei giocatori forti. Non parlate di nomi, giocatori forti. Non parlate sempre di questi nomi, perché a noi ci stanno offrendo dei giocatori di Serie A che ce li pagano loro, dei giocatori di Serie A che ce li pagano loro, che hanno i nomi, ma non sono funzionali per il nostro gioco. Allora io perché devo far contento la piazza due giorni che prendiamo tre giocatori di nome, quando poi io non ci credo, non ci credo. Io credo a chi ha voglia, a chi è uomo, a chi ha fame, io credo a questa gente che viene dentro al campo e che è un soldato e che deve combattere. Quindi saranno queste le caratteristiche? Dall'inizio io ho parlato, voglio questi giocatori. La società non mi ha detto, ma io ho fatto dei nomi, degli attaccanti, stiamo crescendo tutti ragazzi. Questo sta lavorando il signor Annucci, il nostro presidente, e Luca Evangelisti. Loro sanno quello che devono fare, però io vi dico una cosa, io sono contento di questo gruppo che sto allenando. Poi dove potremmo arrivare? Io non so come tanti di voi che danno già sentenze, io sono abituato con le sentenze del campo e il campo può parlare, il campo, solamente il campo e quando parla il campo c'è uno che c'ha ragione e uno che c'ha torto. Se io c'ho torto ragazzi, cinque giornate vado a casa, poi verranno, prenderanno giocatori meglio di me, prenderanno allenatore migliore di me, non mi interessa, fallisco io e pago io. Però io vi dico una cosa, io devo morire per sbagliare, perché io non sbaglio, non voglio sbagliare, non pensate che sono scemo, non pensate che questa è una squadra scarsa, non lo pensate. Mi arrabbio perché mi sottovalutate dei ragazzi che stanno lavorando, che lavorano a 40 gradi, a 40 gradi. Non c'è una squadra scarsa, si dice che è una squadra che necessita di qualche ritocco per essere un po' più competitiva. parliamo dopo il 31 però, parliamo dopo il 31 del mercato, fate lavorare la società, ragazzi, la società. Mi sa comunque alla luce della partenza di Miccariello e dell'infortunio purtroppo di signorini che tra l'altro sono messi stasera, sono già previsti, erano già previsti, già previsti i due difensi, sono già previsti. Però è un problema perché i signorini forse è quello che ovviamente interpreta meglio il suo modo di difendere. Ma apposta io vi dico, ragazzi, voi avete visto la prima partita di Coppa Italia, abbiamo già dato una squadra di Serie C, avete visto qualche amichevole, oggi avete visto una squadra che fa un campionato di un altro paese e fa in un campionato di un altro paese una categoria superiore alla nostra, giusto? Avete notato qualche miglioramento voi? Adesso vi faccio la domanda a voi. Avete notato qualche miglioramento? Sì. Ma lo sapete perché c'è stato un miglioramento? Perché siamo lavorati, dateci tempo, fateci lavorare. Sì, domani leggerà anche questa cosa. Fateci lavorare, però fateci lavorare, fateci lavorare. Se giocavamo con il Trapani così come stasera... Io voglio dire una cosa, il Trapani la settimana dopo è andato a giocare a Torino e ha preso 7 gol, non si sono allenati, perché noi ci siamo allenati, abbiamo lavorato sodo, perché a noi non ci è piaciuto, non ci è piaciuto che siamo usciti al primo turno con una squadra di Lega Pro, però in quel momento eravamo quelli e io vi dico una cosa, io ai ragazzi miei gli ho detto sono contento della prestazione, non del risultato, sono contento della prestazione per il momento e per la rosa che avevo, i ragazzi hanno dato di più di quello che avevano, uno, però è normale che voi dovete giudicare il risultato, come i tifosi devono giudicare il risultato, io sono d'accordo, però guardate che noi miglioreremo e dobbiamo prendere quello che la società sa e che noi tutti sappiamo che stiamo dentro, però questa rosa va elogiata perché già è migliorata e la miglioreremo ancora, perché non so se qualcuno ha il coraggio di mettere un 98 difensore centrale e un 2000 in porta, ci vuole anche il coraggio nelle scelte, la nostra società ha coraggio e il programma, io vi ho detto non mi interessa se non prendiamo nessuno perché non arriva nessuno, il 2001 domenica è titolare perché giocherà lui, andiamo avanti, sono sicuro che non mi delude ragazzi, sono sicuro al 100%, poi è normale, se voi mi dite chi voleva far giocare signorini, è normale che i signorini erano giocatori importanti, però pazienza, nulla accade per caso nella vita, non accade per caso, se succedono delle cose è perché c'è sempre un disegno, nulla accade per caso, ricordatevelo questo. A me piace attaccare, a me piace attaccare, io voglio gente che sa segnare, voglio gente che va all'attacco, io feci una battuta, giochiamo col 3-7 e tutti quanti vi siete messi a ridere, adesso giocheremo col 3-1-6, metteremo uno davanti alla difesa, adesso facciamo il 3-1-6 perché abbiamo capito che prendiamo troppe ripartenze e lo metteremo lì a fare la guardia ai sei che attaccano, perché ho visto una cosa che le squadre di Serie B attaccano in due, in tre, però hanno i nomi, hanno quelli che pagano 3 milioni di euro, che sono passati anche qui per la Ternana, parecchi di questi giocatori sono passati per la Ternana, che oggi vogliono tutti, quindi speriamo che noi uno da 3 milioni di euro ce lo costruiamo dentro casa, perché per me ci sono i giocatori, bisogna solamente scoprirli e bisogna avere pazienza, io vi dico a voi, avete un po' di pazienza, che c'è la società che mette i soldi, voi avete l'amore per questa città, siete tutti ternani, dentro al sangue vescole rosse e verde, ma non pensate che il Presidente o il padrone dice delle cose perché si vogliono nascondere o perché magari si vogliono proteggere o dicono cazzate, non dicono cazzate, sono fermamente convinti del lavoro e dateci tempo, io voglio solamente che ci date tempo del lavoro, poi per carità, nella vita c'è chi vince e c'è chi perde, però sappiate una cosa, la proprietà è una proprietà vincente che vuole vincere, non vuole illudere nessuno e se hanno fatto uno sbaglio di comunicazione, se qualcuno ha pensato questo qui, non sono io che lo giudico questo, ma da quello che ho sentito da voi, non l'hanno fatto in mala fede, perché sono delle persone lavoratori, sono delle persone oneste, che è una cosa importante, oneste, che si preoccupano, si preoccupano di come va la squadra, si preoccupano come vanno i ragazzi, sono parteci, aiutano le famiglie, noi siamo una famiglia, vogliamo diventare una famiglia, ma noi in questa famiglia fate parte anche voi, come fanno parte i tifosi, che ringrazierò sempre, qualsiasi sia il loro giudizio a fine gara, viene rispettato, perché solo uno che paga un euro per venire a vedere la mia squadra, deve essere solo ringraziato, poi il tifoso può dire tutto, mi dà fastidio la cattiveria gratuita. Palla pure troppo ragazzi, grazie a tutti, arrivederci.